Si annunciava un consiglio comunale animato a Taurianova, ma la realtà ha superato di gran lunga le attese Burrascoso e, a dir poco, le polveri tra la maggioranza e gli innamorati di Roibiasi si sono accese alle prime battute. L'assemblea cittadina non si riuniva dal luglio scorso e all'ordine del giorno vi erano sei punti, ma quello che avrebbe potuto generare scintille era la modifica dello statuto comunale con l'introduzione del quinto assessore e l'istituzione del garante per le fasce più deboli e così è stato punti che hanno provocato un duro scontro con il sindaco e la sua maggioranza. Ma l'antipasto di questa furibonda battaglia degenerata in una rissa finale nel corso di una sospensione dei lavori del Consiglio è arrivata con le due interrogazioni presentate dai due malpancisti della maggioranza Maria Stella Morabito e Filippo Lazzaro ad Impresa Calabria riguardo alla messa in sicurezza delle strade. Due interrogazioni che alla minoranza servono da spunto per entrare in polemica diretta con la maggioranza, soprattutto con il presidente del Consiglio, Fausto Siclari. Il Consiglio che in quel momento è sembrato trasformarsi in un ring dove le urla e le grida non erano degli spettatori presenti, ma dei due ex amici e colleghi di partito Siclari e Biasi. Con quest'ultimo che nella zuffa verbale arriva a minacciare una denuncia alla procura sui affidamenti diretti, assegnati, grida Biasi, agli amici degli amici e rivolgendosi al sindaco Scionti, gli urla se vado alla procura lei e la sua giunta uscite con 15 capi di imputazione. Un momento di fuoco che si spegna con il passaggio dei due punti successivi quando si passa al terzo punto, nomina del collegio dei revisori dei conti e l'approvazione dello schema di convenzione con la IAM. Ma è l'altro punto a riaccendere il fuoco della discordia tra la minoranza e la maggioranza e l'approvazione del regolamento per il funzionamento della biblioteca, con un aspettato colpo di scena che arriva dai banchi della maggioranza. Il consigliere Morabito di Impresa Calabria si dice costretta ad esternare la difficoltà in cui si trova perché non può approvare un regolamento nuovo di cui è venuta a conoscenza da troppo poco tempo. Si passa all'ultimo punto, quello relativo alle modifiche dello statuto, dopo la presentazione da parte del sindaco di tutte le modifiche che l'amministrazione vorrebbe apportare. Nella fase successiva la parola è passata a Biasi che nel suo lungo intervento ha elencato tutte le difficoltà incontrate durante la discussione inerente ai vari punti delle modifiche. L'ipotesi di istituzione del garante delle fasce deboli ha suscitato le ire del capogruppo degli innamorati di Taurianova. Le modifiche dello statuto sono passate a maggioranza assoluta e non come si vorrebbe nei prossimi 30 giorni, dunque dovranno essere convocati altri due consigli comunali per l'approvazione definitiva delle modifiche dello statuto.